ciao amici ben ritrovati per la serie invito alla scrittura oggi parliamo della lami ion in edizione speciale edizione 2021 dark green una penna molto bella un invito alla scrittura che comunque si pone un po nella classifica alta perché è una penna che costa attorno ai 50 euro quindi ci proporrà senza dubbio delle soluzioni estetiche e anche tecniche decisamente diverse da quello che una penna da 10 o 15 euro può offrire andiamola a vedere e vi dico subito che è una penna che a me è piaciuta e piace parecchio tanto è vero che quasi quasi fare un pensierino se restituirla o meno perché è davvero molto bella lami è un'azienda che apprezzo molto perché innanzitutto perché ha creato dei best seller che resteranno nella storia della penna stilografica come la safari per esempio ma diciamo che anche tanti brevetti nella storia penne iconiche come la lami 2000 che è vero che noi conosciamo nella versione attuale ma è un'altra penna veramente molto bella ma poi ci sono tutte quelle realizzazioni è un pochettino legate al design che mettono insieme la classicità con qualche forma un po più moderna con degli degli inserti di materiali diversi come il legno per esempio e non a caso anche questa è partorita dalla creatività di un designer che si chiama jasper morrison ed è insomma un designer premiato più volte proprio per i suoi oggetti per la sua ricerca e il suo stile la lami ion infatti è fatta con realizzata con dell'alluminio anodizzato il corpo è realizzato con dell'alluminio anodizzato satinato possiamo dire c'è un termine più preciso l'avevo anche segnato perché è la prima volta che l'ho sentito imbutito imbutito senza aggiunture e questo al tatto si percepisce immediatamente mi sembra giusto per darvi un'idea quasi di sfiorare un tessuto di raso che è molto molto lavorato in maniera fine però si sente comunque una piccola e leggera trama il cappuccio è un cappuccio di tipo ad incastro e dopo parleremo di quello contro cappuccio all'interno in piena filosofia lami certamente ma quello che fa un po la parte del leone e il pennino ma non ve lo racconto subito prima andiamo a vedere che cosa troviamo nella confezione innanzitutto una confezione un po diversa uno sforzo anche in questo per mostrarci che non è la penna per esempio da 30 euro 35 euro che l'ami ci dà con un astuccio ancora diverso leggermente inferiore se vogliamo essere onesti qui c'è un bel vellutino la penna è fissata bene vellutino anche in questa parte veramente molto molto elegante si chiude bene andiamo a vedere vi dicevo cosa abbiamo in dotazione oltre al certificato di garanzia abbiamo la cartuccia in omaggio benissimo ed un converter anche un bel converter lami ne ha diversi in in catalogo questo è lo z 27 sappiamo tutti che lami utilizza dei pennini abbastanza economici nelle versioni base sono pennini che sapete sono sostituibili molto facilmente si trovano anche con un prezzo tutto sommato abbordabile attorno ai 7 8 euro però anche dei pennini in oro dei pennini che è un peccato che soltanto attraverso l'oro venga prodotta qualche gradazione interessante come quella obliqua obliqua media doppio broad peccato perché mi sarebbe piaciuto provarle anche in queste serie ma non proprio in questa serie perché voilà il pennino della nostra amica aion è un pennino speciale infatti se riuscite chi conosce i pennini quelli classici lami riuscirà a notare che c'è una differenza sia nella forma non nell'attacco che resta quello diciamo semplice anzi molto spartano delle ali attaccate al converter quindi possiamo già immaginarci una rigidità di questo pennino ma inseguendo un pochettino questa la filosofia che anche caveco ha fatto propria dei pennini premium lami ci propone questo pennino che senza dubbio è molto meglio rifinito molto più bello anche esteticamente ma soprattutto la parte della punta che probabilmente starete osservando nelle immagini ingrandite è quella che ci offre un'esperienza di scrittura decisamente decisamente superiore dimostro anche dato che siamo ingranditi anche la qualità dell'impugnatura che è diversa dall'anodizzato del fusto della penna realizzata bene cioè è piacevole da impugnare non scivola perché comunque il metallo non è che mi piaccia molto nell'impugnatura ma in questo caso non si percepisce che è un metallo perché questo tipo di finitura fa aderire proprio bene le dita e le lascia le lascia più comode rispetto a quello che ahimè è un parere soggettivo mi capita col metallo ma a proposito di metallo guardate che bella sezione a questa penna una filettatura vedete quanti quanti giri quindi una filettatura con un bello snodo questo significa l'apro e la chiudo che non abbiamo due giri tre giri e una filettatura un po grossolana che insomma lega la penna questa significa che la penna è veramente vincolata alla sezione di scrittura e la sensazione impugnandola quella di avere un unico corpo e poi guardate che spessore certo se avete seguito il video di invito alla scrittura comincerete forse a farvi un'idea di quello che significhi per una produzione spostare l'asticella del prezzo dai 25 30 euro ai 50 più o meno di questa diciamo anche 45 perché questa è un'edizione speciale quindi mettiamoci 5 euro in più ma la penna è veramente realizzata bene molto molto valida a fronte di tanto metallo e di una finitura così massiccia anche all'interno nelle componenti ovviamente il peso aumenta è una penna che pesa 33 grammi però il peso distribuito molto bene perché il metallo rispetto alla plastica ha questo vantaggio che non trovandosi solamente ed unicamente nelle sezioni viene distribuito lungo tutto tutta la penna il cappuccio come avete visto non non lo togliete quando è nuova con un semplice click magari servono le due mani poi si allenta e questo però non mi dispiace perché non solo è più pratica da aprire perché come vedete adesso si apre anche così ma significa che chiude bene la parte della del pennino e quindi con tutta la parte che deve scrivere questo è un pennino di tipo medio un pennino che equipaggia vi ho detto soltanto la lami ion voi non potete sentirlo ma è veramente un piacere scrivere con questa stilografica è un pennino che è arrotondato fuori dubbio perché guardate può scrivere stringo un pochettino può scrivere chiaramente così chiaramente così chiaramente così ma anche non so se riuscite a vedere che il tratto resta uniforme anche inclinando cioè questo a dire lo avrete visto nelle immagini precedenti che la finitura è veramente rotonda sul pennino e quindi consente un utilizzo molto ampio delle inclinazioni anche quando magari la carta è piccola e ci tocca curvare un pochettino oppure stiamo scrivendo nello stretto e ci tocca fare le acrobazie e però a dispetto di questa sua di questo suo aspetto tondeggiante ve lo faccio sentire l'immagine andrà fuori fuoco ma ve lo faccio sentire così scorre lasciando quella sensazione di di controllo di di un pennino che collabora collabora con la carta con la superficie sulla quale si sta scrivendo e questo significa controllo tanto è vero che è una pena che posso decidere di usare per non so per lo stampatello maiuscolo si scrive guardate anche velocemente ma con molto controllo posso utilizzare quello minuscolo andando anche in velocità ma mantenendo una certa caratteristica nella scrittura ma non per niente questo pennino lami lo definisce espressivo e questa volta ammetto che non è solamente marketing perché poi insomma nelle presentazioni si legge un po di tutto questa volta il l'aggettivo espressivo calza veramente a dovere inoltre appena che mi è piaciuto provare anche con altri altri inchiostri sto utilizzando lami perché insomma è giusto così quello è il suo ed è anche un bel inchiostro però funziona molto bene anche con altri inchiostri funziona molto bene significa che ha la capacità di variare un pochettino a seconda della formulazione che utilizziamo cioè non è il classico chiodo che ci mettiamo l'uno l'altro inchiostro e il risultato non cambia quindi bene ma guardate tra l'altro come è possibile portarlo portarlo a spasso perché segue molto l'indole della vostra grafia è una penna che si è capito che mi è piaciuta vero decisamente la distribuzione del peso è ottimale perché da qui a qui è praticamente la stessa quindi posso impugnarla nello stretto quando voglio scrivere qualcosa non so in piccolo pur tenendo presente che stiamo parlando di un pennino medio però come potete vedere ok posso decidere di scrivere un pochettino più grande mantenendo sempre la stessa vi dicevo caratteristica della penna vogliamo trovare un difetto sì certo ve lo dico subito il difetto sta qua il cappuccio contro cappuccio benissimo ma attenzione perché otto volte su dieci infilando la penna se non siete perfettamente allineati e centrati un po come l'aggancio spaziale delle stazioni orbitanti il pennino eccolo qua va aia no un pochettino più di attenzione nell'invito nella parte dell'innesto si poteva fare però certamente qualsiasi designer direbbe avremmo dovuto sacrificare qualche cosa e allora vabbè è un difetto con il quale ci si convive una volta che sbattete una volta e due imparate che va fatto con un pochettino più di cautela un pennino diverso un pennino premium chiamiamolo così senza voler scignottare nessuno proposto nelle quattro gradazioni principali extra fine fine medio e broad ad essere onesti e per completezza insomma di disamina il pennino medio è quello che sto utilizzando un pennino abbiamo detto secondo me da 10 il pennino f è un pennino da 10 perché anche in questo caso riesco a sentire la qualità del lavoro che è stato fatto sul pennino e questo tipo di rispondenze pennino broad vado un po a perdere questa sensazione non voglio dire che sia identico a quell'altro però preferisco spendere i miei soldi qua per avere tra il fine il medio per avere un qualcosa realmente di più nell'extra fine vi starete domandando era la mia curiosità sono riuscito a provarlo c'è un po di strada ancora da fare non è appunto come sono questi due ecco perché se dovessi scegliere rimarrei su un f o un m tra le altre cose avrete potuto constatare che questo è un medio di nome e di fatto non è il medio che spesso strizza l'occhio al b il flusso e ultra regolare il pennino f è realmente un f quindi anche in questo caso il lavoro è stato fatto con una certa cognizione di causa con con il rigore che va fatto questa è la bella lami ion che vi ripeto è un piacere da utilizzare perché guardate come ci porta a scrivere e come sempre se vi piace potete averla anche con il codice promozionale di marco chiari e magari uno sconto un omaggio quello che ciao a tutti amici e alla prossima